Bella raga, eccoci ritornati con un nuovo video, dunque buonasera, i risultati di questa giornata, si è appena concluso Fiorentina-Parma, una bella gara, l'ho vista quasi tutta, il Parma era andato in vantaggio nel primo tempo con un gran gol di Cervigno dopo un pallone perso sulla tre quarti viola da Federico Chiesa. Il rilancio subito in contropiede Cervigno che trafigge Dragoschi, il pareggio poi arriva nella ripresa con Gaetano Castrovilli al secondo gol consecutivo e il terzo in campionato con un colpo di testa su un cross bellissimo di Dalbert, l'ex Inter, nel pomeriggio il 2-2 quello tra Lecce e Sassuolo. Io ho segnato a Fantacalcio con un piccolo Toljan, dunque primo gol in Serie A di Toljan, ci ho schierato anche titolare, dunque va bene così. Comunque segna Toljan, il Lecce è andato in vantaggio due volte con il primo Lapadule, il secondo sinceramente sembra Maier ma non mi ricordo. E poi Toljan l'1-1 e il 2-2 di Domenico Berardi. Ha vinto l'Udinese negli ultimi minuti contro il Genoa a Marassi 2-1 con un gol di Semà, un bel gol di Semà di sinistro. Io ai primi tempi non li ho visti proprio, ragazzi, che sono stato giù a Milano, quindi i primi tempi non li ho visti oggi. Non ho visto neanche Atalanta, onestamente neanche Atalanta-Cagliari. Comunque Semà ha fatto il 2-1, il Genoa che era andato in vantaggio con Pandev, se non sbaglio. E poi c'è stato il pareggio dell'Udinese con De Paul, questo è il primo tempo, e poi Semà all'ottantasettesimo. Il Verona batte Brescia 2-1, qui un bruttissimo episodio ancora di razzismo da parte dei tifosi veronesi nei confronti di Mario Balotelli, che quest'estate era stato proprio vicino al Ber Verona. Partita interrotta per tre minuti, dopo che Balotelli ha scagliato, eravamo intorno al cinquantesimo, un adottesimo. Roba del genere, Balotelli ha scagliato il pallone verso la tribuna, verso la curva del Verona. E niente, gara sospesa, comunque sul campo il Verona ha vinto 2-1. Ancora segno per il Verona Pessina, che aveva fatto il 2-0, e poi il 2-1 proprio di Mario Balotelli, guarda caso. Però è importante vittoria, traballa qui la panchina di Corini, che rischia davvero l'esonero in questi giorni. Quindi vedremo, attendiamo novità. E invece, nel pomeriggio il colpo del Cagliari, che è entrato in zona Champions League, ha agganciato l'Atalanta al quarto posto. Staccandosi dal Napoli, momentaneamente dalla Lazio, che deve giocare a San Siro stasera col Milan, vediamo che farà. Però nel momento il Cagliari è quarto con l'Atalanta, e ha scavalcato squadre blasonate come Lazio e Napoli. Anche se la Lazio, ripeto, ancora deve giocare. E niente, ha vinto 2-0 a Bergamo l'Atalanta, che è rimasto in 10 per espulsione. Un fallo di reazione di Josip Ilicic, Cagliari che ha segnato Cristiano Oliva, l'argentino, primo gol in Serie A per i Cagliari. Nel primo tempo c'era stato l'otto gol di Mario Pasalic. Dunque, questa sera c'è Mila Lazio, domani sera c'è Spal Sampdoria. Andiamo a vedere come finiranno. Comunque, al momento, complimenti al Cagliari. E sempre fino alla fine, comunque, forza Juve, sempre la capolista. Ciao a Juve.